atti vandalici al campus identificati tre giovani responsabili covid un nuovo caso a pesaro sequenziata nelle marche la variante delta siccità e approvvigionamento idrico il punto di marche multi servizi tornano gli eventi estivi a monte labbate con le buone notti duemila e ventuno una buona serata tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione del nostro telegiornale rossini news apriamo questa edizione parlando degli atti vandalici che ciclicamente tendono a manifestarsi nella zona del campus scolastico perché sono stati identificati gli autori dei danneggiamenti riservati ad una telecamera di sorveglianza e ad alcune vetrate del liceo scientifico marconi lo scorso 20 giugno si tratta di ragazzi minorenni di età compresa tra i 13 e i 14 anni vediamo l'ultimo episodio di vandalismo risale alla serata dello scorso 20 giugno quando attraverso il lancio di alcune bottiglie di vetro recuperate dai cassonetti erano state distrutte alcune vetrate del liceo scientifico marconi ed era stata rotta la telecamera di sorveglianza esterna collocata nel piazzale adiacente all'istituto gli eventi di fine giugno sono stati però soltanto gli ultimi di una più lunga lista di atti vandalici che da tempo si registrano nella zona del campus e per i quali non sono mai smesse di arrivare segnalazioni da parte di cittadini residenti agli organi di polizia le ripetute chiamate giunte alle forze dell'ordine indicavano sempre la presenza di giovani ragazzi intenti a danneggiare oggetti o spazi situati nell'area grazie però all'acquisizione delle immagini delle altre telecamere di sorveglianza presenti al campus sono stati identificati gli autori degli ultimi atti vandalici registrati a fine giugno due di questi di età inferiore ai 14 anni e dunque non imputabili sono stati segnalati alla procura della repubblica del tribunale dei minorenni mentre il terzo avendo già compiuto i 14 anni potrebbe ricevere una denuncia per danneggiamenti sull'accaduto si è espresso anche il dirigente del liceo scientifico marconi riccardo rossini stamattina siamo stati avvisati dalla digos che alcuni degli autori dei danneggiamenti sono stati identificati siamo rimasti sorpresi soprattutto nel prendere che l'età di questi ragazzi è di circa 13 14 anni pensare che alcuni adolescenti possano vincere la loro noia sfasciando rompendo vetrate telecamere sinceramente ci lascia basiti i danni registrati ammontano a circa 5 mila euro speriamo che possa essere per loro un monito e nel contempo anche qualcosa di educativo che possono capire gli errori che hanno fatto e che non li possono ripetere è comunque probabile che gli atti vandalici non sono impuntabili unicamente ai tre che hanno individuato perché normalmente bivaccano in quella zona 10 15 ragazzi praticamente tutti i pomeriggi e mi sembra strano che soltanto loro tre abbiano partecipato alle devastazioni di questi ultimi mesi in primo piano anche la pagina degli aggiornamenti covid sul territorio regionale e provinciale nelle ultime 24 ore sono stati testati 1788 tamponi 895 nel percorso nuove diagnosi e 893 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari al 2,1 per cento i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 19 con un caso registrato nella provincia di pesaro e urbino nessun decesso è stato notificato nelle ultime 24 ore anche nelle marche è stato segnalato l'arrivo della variante delta attraverso la positività al virus riscontrata su due turisti stranieri provenienti dalla nord europa e che hanno iniziato a manifestare i primi sintomi dopo essere già arrivati in regione positivo alla variante delta che avrebbe contratto all'estero anche l'imprenditore di 70 anni di gradara che si trova ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di pesaro voltiamo ora pagina perché il caldo e le temperature registrate nelle ultime settimane e l'assenza di precipitazioni significative hanno fatto scattare sul territorio regionale ma anche provinciale diverse ordinanze che limitano l'uso dell'acqua potabile per garantire quanto possibile il risparmio idrico il comune di pesaro ha disposto il divieto fino al 30 settembre di prelievo e consumo d'acqua del pubblico acquedotto per l'irrigazione e l'annaffiatura di orti giardini e prati il lavaggio di aree cortilizze piazzali e veicoli a motore il riempimento di piscine fontane e vasche da giardino e in generale per tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale e proprio il tema dell'acqua della siccità e delle sfide attuali e future per garantire l'approvvigionamento idrico sul nostro territorio sono state le tematiche al centro della conferenza stampa organizzata questa mattina da Marche Multiservizi precipitazioni sempre più in diminuzione nei mesi estivi criticità sulle distribuzioni nell'arco dell'anno il cambiamento climatico che trasforma rapidamente gli scenari conosciuti fino ad oggi e la necessità di intervenire adottando soluzioni strategiche in grado di mettere il territorio a riparo da crisi ed emergenze idriche sono le tematiche trattate nella conferenza di questa mattina organizzata da Marche Multiservizi per discutere delle sfide attuali e future relative all'approvvigionamento dell'acqua anche sul nostro territorio diverse sono le criticità dell'approvvigionamento idrico presenti nella provincia di pesaro urbino che conta una rete idrica di 5.000 chilometri con 107 impianti di depurazione 529 captazioni e 700 serbatoi di accumulo tra le principali problematiche l'eccessiva dipendenza dell'approvvigionamento da fonti superficiali e la scarsa interconnessione tra i principali acquedotti ormai da diversi anni Marche Multiservizi in accordo con i sindaci e con Nato sta mettendo in campo delle azioni condivise che vanno nella giusta direzione quindi quello dell'efficientamento della rete della riduzione delle perdite del gestione diciamo così da remoto con un'interazione intelligente sul sul territorio è normale che in un contesto idrico la siccità diventa una una situazione molto delicata da gestire abbiamo visto anche in altri territori regionali già mettere in campo delle azioni di razionamento della risorsa idrica ancora da noi non è così perché negli anni abbiamo messo a sistema questi vari interventi e proprio attraverso questa dimensione cerchiamo di individuare delle strategie delle azioni da mettere in campo nel medio nel lungo termine attraverso la scienza il cambiamento climatico produce sta producendo e produrrà i suoi effetti sempre più gravi riducendo quella che la disponibilità dell'acqua dolce e quindi ad uso umano e quindi credo che l'uomo in questo caso ovviamente nella provincia di peso rubino debba farsi carico di fare anche delle scelte coraggiose importanti che guardano avanti lustri e lustri e decenni in modo tale da garantire la vita la giornata di oggi l'abbiamo organizzata proprio a luce anche della disponibilità di alcuni rappresentanti del istituto metrologico del serpieri dell'università di urbino proprio per avere anche il supporto e la presenza della scienza in modo tale che ci possa aiutare a fare le scelte giuste poi è chiaro che Marche Multiservizi è il gestore quindi non spetta solo noi noi possiamo essere un soggetto proponente come dicevo vogliamo essere un soggetto importante a supporto delle amministrazioni e dei territori ma ovviamente ognuno deve poi assumersi le proprie responsabilità e le proprie decisioni a cui competono. La situazione contingente è una situazione molto precaria nel senso che abbiamo ormai un anno e mezzo l'andamento delle precipitazioni che è indeciso diminuzione. Il problema principale che abbiamo riscontrato non è tanto la carenza delle precipitazioni quanto la distribuzione di questa nell'arco temporale di un anno e soprattutto la variabile diciamo più difficile da contenere quella della variazione della temperatura. L'aumento delle temperature che è sconsiderato in questi ultimi vent'anni soprattutto nel periodo estivo porta all'estremizzazione dei fenomeni e l'estremizzazione dei fenomeni non è sicuramente favorevole o positiva nel discorso del recupero delle acque piovane. Possiamo dire che le caratteristiche meteorologiche nel corso di questi ultimi 20-30 anni con il cambiamento e aumento delle temperature è andato a erodere diciamo le altre le altre diciamo così le altre la primavera e l'autunno quindi ormai abbiamo un'estate che possiamo considerare quasi di 5-6 mesi quasi metà dell'anno è considerata carattere tipico estivo nel nostro territorio. Apriamo ora la pagina delle segnalazioni di Rossini TV mostrandovi queste foto che ci arrivano dai nostri telespettatori e più nello specifico da alcuni residenti del centro storico che tornano a segnalare l'assenza di interventi di manutenzione per la buca presente nell'asfalto lungo viale 24 maggio. Interventi attesi quindi ma non ancora eseguiti anche a seguito dell'allestimento nell'area di cartelli e transenne avvenuto lo scorso 15 giugno che bloccano l'utilizzo di alcuni posti auto da ormai quasi un mese. E per segnalare criticità e problematiche della città continuate a scriverci a inviarci foto video messaggi al nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370 366 72 10. E ora proseguiamo con le notizie perché Pesaro è candidata ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022. Il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini hanno annunciato questa mattina che è stata ufficialmente inviata la manifestazione di interesse alla RAI per ospitare in città il prestigioso evento. Rispettati tutti i parametri per la partecipazione ovvero la presenza di un aeroporto internazionale che non disti più di un'ora e trenta minuti, un'offerta alberghiera di oltre 2000 stanze in aree contigue all'evento e un'infrastruttura alla vitrifrigo arena che rispetta i criteri richiesti. La riserva naturale statale Gola del Furlo si appresta a festeggiare il ventennale della sua istituzione nel 2001 ad opera del Ministero dell'Ambiente. Per l'occasione la provincia di Pesaro Urbino che ne è l'ente gestore sta mettendo a punto insieme ai comuni e agli operatori del territorio un programma di iniziative per sabato 31 luglio e domenica primo agosto. Offrire un supporto concreto alle famiglie grazie ad un programma di attività che coinvolgono i bambini nella fascia dagli 0 ai 7 anni e negli spazi aperti dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo. Questo è l'obiettivo di Estate Lab 2021, il cartellone delle attività gratuite per i più piccoli, le loro mamme e il loro papà curato dalle operatrici del centro delle famiglie dell'Unione Pian del Bruscolo insieme alle realtà del tavolo della comunità educante. I laboratori di Estate Lab hanno preso avvio a giugno e si protrarranno fino al prossimo 9 settembre. I laboratori si tengono 4 giorni in settimana dalle 17.30 alle 18.30 mentre le attività della ludoteca Riù si svolgono il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Ai laboratori potranno partecipare fino a 12 tra bambine e bambini accompagnati da un adulto. Per prendere parte all'attività è necessario iscriversi telefonando e inviando un messaggio whatsapp al numero 348 605 4063. Notizie anche sul fronte sportivo perché tre pesaresi sono impegnati nel raduno della nazionale di rugby Under 18. Si tratta di Michele Artusio, Gabriele Venturini e Alessandro Filoni. Se i primi due sono impegnati all'Accademia di Prato per poi giocare i campionati con la squadra giallorossa, Alessandro è invece nell'Accademia di Roma e gioca con la Maglia della Capitolina. Tutti e tre però sono nati con i colori giallo-rosso addosso, prima nel settore mini rugby delle Formiche Pesaro e poi in Under 16 e 18 con la Pesaro Rugby. E prende il via il cartellone degli eventi estivi del comune di Monte Labate. Da venerdì 16 luglio infatti tornano le buone notti di Monte Labate. Vi presenteremo questa importante rassegna in maniera approfondita con uno speciale in onda su Rossini TV lunedì alle 21.15. Intanto però sentiamo un estratto delle interviste realizzate al sindaco di Monte Labate, Cinziaferri, e al presidente dell'Associazione Culturale Monsabatis, Roberto Rossi. Le buone notti di Monte Labate, i tre appuntamenti proprio qui nel comune di Monte Labate, dislocate su tutto il territorio comunale, che si svolgeranno nel mese di luglio. Iniziamo il 16 luglio con Paolo e Francesca alle 21.15 e sarà qui proprio nello spazio del castello di Monte Labate. Venerdì 23 luglio, sempre alle 21.15, l'ultimo sorriso di Beatrice ad Osteria Nuova. E infine, venerdì 30 luglio alle 21.15, Ulisse senza ritorno alla Psella, nel territorio comunale di Monte Labate, che abbraccerà questa manifestazione che è mancata purtroppo nel 2020, ma che torna con la sua grandissima voglia di comunicare cultura, di comunicare bellezze del territorio e comunicare soprattutto la voglia di stare insieme. Quest'anno, dopo un anno di interruzione a causa del coronavirus, rincominciamo le buone notti, queste serate che hanno lo scopo di allietare, di rendere più tranquille le persone, con un po' di musica e anche con dei racconti. E proprio dal castello iniziamo la prima serata che si svolge il 16 luglio. Partendo infatti la prima serata dal castello di Monte Labate, poi ci trasferiamo nella frazione di Osteria Nuova, anche lì un punto storico dove c'è stato tutto il discorso della linea gotica, per poi terminare in un posto bellissimo che è il nostro Farnito. Purtroppo effettivamente il Comune di Monte Labate, a causa della pandemia, è stato colpito fortemente, abbiamo avuto tante persone che ci hanno lasciato e tante che si sono contagiate. Ma noi proprio per questo motivo abbiamo deciso quest'anno di ripartire, ripartire per dare speranza, le persone per lasciarci tutto questo alle spalle. E quest'anno appunto, come si ricordava già, sarà un'edizione particolare in cui da guida in questo viaggio sarà il sommo poeta. Questo anno particolare a lui dedicato abbiamo pensato di farci guidare da Dante. D'altra parte chi meglio di Dante può in qualche modo guidarci alla riscoperta della nostra terra, della nostra Italia, della nostra storia e anche direi della nostra umanità. Allora si partirà proprio da qua, da questo castello di Monte Labate, venerdì 16 di luglio con un appuntamento importante, un appuntamento con un invitato speciale che più volte anche le buone notti hanno avuto modo di ospitare e sarà una serata che avrà per protagonista appunto Umberto Piersanti che con una conversazione ridarà vita appunto al canto, a uno dei canti diciamo così più affascinanti, più amati, forse più conosciuto dell'intera commedia, il canto quinto dell'inferno con la vicenda del tragico amore di Paolo e Francesca. Come sempre ci sarà della musica che accompagnerà queste serate e sarà quest'anno una musica particolare, una musica scelta con delle sonorità antiche, medievali, proposte da dei musicisti della nostra terra, della nostra zona insomma. E al fine settimana che sta per iniziare ricco di inaugurazioni di eventi culturali si aggiunge la riapertura al pubblico del Centro Arti Visive Pescheria con una mostra che prenderà il via proprio a partire da domani e che proseguirà fino al mese di ottobre. Vediamo di cosa si tratta nelle prossime interviste. Mira al mare Malè è la nuova mostra di Davide Mancini Zanchi dove dopo il lungo periodo di pandemia riapriamo lo spazio che comunque non ha mai fermato di produrre mostri e attività culturali che abbiamo fatto in questo periodo visibili dall'esterno. Ma finalmente si può rientrare all'interno dello spazio e visitare questa mostra straordinaria, un lavoro site specific realizzato da Davide Mancini Zanchi che inaugurerà sabato 10 luglio dalle 19 alle 22 per una grande festa, per un opening day, sempre rispettando le norme di sicurezza previste dalle normative Covid. Però avremo veramente il piacere di accogliervi in questo spazio che è stato completamente trasformato. Il titolo della mostra Mira al mare Malè è un gioco di parole tra spagnolo, italiano e pesarese ed è una mostra che si sviluppa nei due ambienti del centro artificiale pescheria, la chiesa dodecagonale in cui ci troviamo e lo spazio del loggiato, quindi il vecchio mercato del pesce. All'interno della chiesa troveremo un'installazione con 1200 dipinti che Davide Mancini Zanchi ha realizzato con la bomboletta spray andando a dipingere per giorni e giorni su una delle spiagge più famose di Pesaro, Baia Flaminia, mentre nello spazio del loggiato troveremo una serie di sculture in cui il mare sembra aver restituito dei legni che però hanno incluso degli strani oggetti come per una metamorfosi. L'altro elemento straordinario che troverete nel loggiato è una videoproiezione di 30 metri con un videogiochi della Playstation in cui il personaggio principale Trevor viene fatto sostare giorno e notte davanti al mare. Tutta la mostra è una riflessione molto attuale sul concetto di artificialità e naturalità di ciò che è naturale, di ciò che è e di ciò che non lo è, che è uno dei dibattiti più interessanti di questo momento storico. L'idea nasce e è nata come una volontà di uscire fuori in un momento in cui siamo costretti a restare dentro e che è stato il momento delle restrizioni pandemiche dell'anno scorso e quindi volevamo rappresentare il paesaggio che in quel momento ci era molto lontano. Il momento di inaugurazione della mostra estiva in pescheria è il vero avvio dell'estate, almeno dell'estate dell'arte e quest'anno non poteva essere non solo diversamente ma non poteva essere migliore l'avvio perché è tutto un lavoro che ammicca un po' al mare, al mare di Pesaro. Un invito a vedere, un invito a rinfrescarsi, un invito a poi vedere anche il mare vero che è quello di Pesaro. E sarà una serata di musica, intrattenimento e divertimento, quella in programma per domani sera alla scalinata Don Minzoni di Fermignano per celebrare l'avvio del 40esimo anno di attività dell'azienda Midor. Le nostre telecamere saranno presenti all'evento che vi racconteremo con uno speciale dedicato mercoledì prossimo in prima serata, ma nel frattempo sentiamo qualche anticipazione con le prossime interviste. Ci avviciniamo a 40 anni e quindi è giusto e doveroso che l'annunciavamo perché fino adesso tanta gente ci ha voluto bene, tanta gente ha collaborato e dal momento che abbiamo anche una divisione musicale non c'era di meglio che farla in musica perché la musica è da allegria, da benessere. Noi con la nostra linea del furlo facciamo anche dei prodotti per il benessere emotivo e di conseguenza abbiamo sabato sera presenteremo anche il nuovo Giggle che il signor Valerio Liboni, l'artista Valerio Liboni, dei nuovi angeli ci ha prodotto e quindi la musica è arte, la musica è musica, è la musica d'allegria quindi non potevamo fare di meglio che collaborare con il comune visto che ci ha sempre sostenuto e anche noi abbiamo sostenuto il nostro comune e non ci ha di meglio che fare una serata assieme con il comune e come ospite poi d'onore dopo l'evento ci sarà anche il maestro Gardo Gelli colui che ha lanciato nel mondo Romagna Mia ma che adesso lanceremo la canzone delle Marche delle Marche con i suoi fiori perché noi abbiamo anche voluto lasciare un bel segno del nostro passaggio terreno del discorso i fiori delle Marche che ci servono per fare i prodotti i colori ci facciamo i coloranti e con le piante officinali ci estraiamo gli oli essenziali e quindi ci siamo anche voluti inventare un brand proprio i fiori delle Marche che così tutta la regione Marche ne può beneficiare. L'evento è nella scalinata di Fermignano di Fermignano gratuito a tutti, l'evento inizia con gli artisti della media che abbiamo diversi componenti che già suonano, invitiamo tutti a partecipare a una serata spensionata allegra e sicuramente felice per tutti. L'orario massimo alle 21 perché noi cominciamo presto abbiamo tanti artisti sul palco e finiremo oltre la mesanotte. Già qualche anno fa durante una serata a Pesaro ho avuto modo di incontrare i signordini e quindi conosci il mondo della Midor e quando mi è stato chiesto di fare un jingle per questa ditta così gloriosa per l'inizio del 39esimo anno l'ho fatto volentieri. È piaciuto, lo ascolterete in esclusiva sabato sera. Io ho 50 anni di carriera, ho venduto 17 milioni dei rischi, prima con la strana società con un brano che si chiama Popcorn, poi Novi Angeli, tanti anni, Donna Felicità, Signapore, Ragazzina, tanti successi. Da qualche anno sono, più di qualche anno, sono solista, ho un gruppo che si chiama Valerio Riboni, la Libo Band con tre coliste e un tassierista e oltre a scrivere e a produrre scrivo anche libri e questi giorni è uscito il mio terzo libro che si chiama Stasera Liboni, lo trovate su Amazon. Sono molto contento di partecipare a questo evento perché mi piace anche l'idea dei fiori delle marche e quindi sto pensando anche ad un brano che rappresenta appunto questo desiderio del signor Dini di attuare anche questo prestigioso progetto. In chiusura di questa edizione del nostro telegiornale torniamo a collegarci con Paolo Pagnini che sta seguendo a distanza l'impresa ciclistica di Zico Pieri. Ha le prese con la Stelvio al limite, dovvero 30 giorni consecutivi in sela la bici ad arrampicarsi su salite e tornanti di una delle più belle montagne d'Italia. Oggi Rossini News si arrampica fino ai 2726 metri dello Stelvio per raggiungere Zico Pieri, l'atleta e recordman Cagliese impegnato come i nostri telespettatori ormai sanno nella sua impresa Stelvio Unlimited 2021. Siamo ai due terzi dell'impresa e allora a Zico Pieri chiediamo a che punto sei rispetto alla tua tabella di marcia? Stai rispettando quello che ti hai riprefisso? Il mio piano di marcia in realtà è venuto strada facendo perché ho iniziato la mia indole di esploratore mi spinge sempre a scavare e trovare il limite, quindi anche il limite di ogni giornata senza pensare poi alle giornate future. Però fin dall'inizio lo Stelvio ha imposto i suoi ritmi e per fortuna ci ricorda che è la natura che comanda, quindi ho sofferto di adattamento all'altitudine, mal di testa, problemi intestinali e quindi va da sé che tutti i programmi che potevi avere in testa li accantoni e pensi a ogni singola giornata. Naturalmente è la mia indole come in passato quello di scavare e trovare il limite e questo mi ha portato a mantenere un buon ritmo giornaliero fino ad arrivare alla 69esima scalata e a oltrepassare 100.000 metri di slivello, quindi parliamo di oltre 12 volte l'altezza dell'Everest fatta in 20 giorni. Si sente spesso sottolineare dagli atleti l'importanza del team in qualunque forma di impresa sportiva. Ci puoi spiegare meglio in che senso il team è efficace e qual è l'apporto del tuo team in questo tuo tipo speciale di attività? Il team in questo progetto è stato assolutamente fondamentale fin dalla partenza, fin dalla progettazione e fin dall'inizio del progetto. E si è visto chiaramente che anche durante la performance, durante le scalate hanno un'importanza cruciale. Più di una volta mi hanno visto in grande difficoltà e si sono stretti intorno a me, anche cambiando a volte i turni di avvicinamento. Magari era programmata che venisse via una sola persona, ma vedendomi in difficoltà poi mi sono ritrovato con due, tre, quattro persone anche in ammiraglia per darmi il sostegno. Questo naturalmente mi dà una grande forza. In più si sono aggiunte anche altre persone che hanno collaborato con il team. Molti hanno fatto centinaia di chilometri per venire a sostenermi ed aiutarmi. Li ho visti ripartire anche con Magone, con qualche abbraccio profondo. Quindi c'è veramente una condivisione totale all'interno del team e credo, sono veramente convinto che questo sia fondamentale perché nello stegno in questa natura potente, selvaggia e per fortuna dico potente, selvaggia perché ci ricorda bene chi è che comanda e chi è che ha detto le regole sarebbe stato quasi impossibile arrivare fino a questo punto. Anche per me è sorprendente perché siamo oltre i 100.000 metri di dislivello. A due terzi dell'impresa si sente di più il peso di tutto quello che è stato fatto o l'effetto calamita del traguardo che ormai si sente come imminente? A due terzi dell'impresa si sente la bellezza di tutto quello che è stato fatto. Potrei interrompere qua la mia avventura e avere con me una grande ricchezza da portarmi a casa e da raccontare. Quindi assolutamente il valore di quello che è già stato fatto. Per quel che riguarda invece quello che dovrò ancora fare la vedo esattamente in questo modo. vedo che mi mancano dieci giorni e comincio a pensare che sono pochi e comincio a pensare che questa avventura, questa bellissima avventura sta per finire. Quindi è esattamente il contrario di un pensiero negativo. Naturalmente sono orientato sempre e solamente a una singola scalata e al momento è una giornata. Se fossi orientato ai numeri mi sarei perso tante belle cose. Per farvi un esempio, stamattina ho fatto una scalata con un signore olandese, Jakobs, interessantissima persona e abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante. Se avessi prestato solo attenzione ai numeri sarei stato sul mio ritmo, sulla mia scalata, sui miei tempi. Giusto una pedalata in più lo avrei perso e avrei rinunciato a una grande conversazione che mi ha arricchito. Quindi a volte focalizzarsi sui numeri e sul futuro troppo lontano non ci porta in una buona strada. Quindi il focus nel momento per me è la chiave di tutto e di godersi veramente le sensazioni e le emozioni. Ringraziamo Zico Pieri e naturalmente anche Maurizio Radi che lo sta sostenendo nella sua impresa e ci prepariamo ad accoglierlo al rientro dalla sua Stelvio Unlimited 2021. E questa era davvero l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo ora gli appuntamenti che potrete seguire su Rossini TV a partire da questa sera perché alle 21.15 andrà in onda lo speciale dedicato alle presentazioni dell'attività 2021-2022 di Pesaro Balla, questa sera in prima serata alle 21.15. L'informazione torna domani in diretta alle 7.20 con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini e alla conduzione ci sarà Antonio Astuti. Sempre domani potrete seguire le repliche della lettura e il commento al Vangelo della Domenica cura di Don Marco Di Giorgio domani sabato mattina alle 10.30 e poi nel pomeriggio alle 16 e invece domenica nella mattinata alle 8 e poi alle 11. grazie per averci seguito in questa edizione del nostro telegiornale un buon proseguimento di serata su Rossini TV grazie per averci seguito in questo video